Addirittura! Verginello Verginello Prima esperienza in FA7 Sarai sicuramente con l'adrenalina a 1000 Sì, sicuramente La macchina va forte Diciamo, io le prime due o tre prove provo a impararla E poi dalla quarta Quale c'è il navigatore? Il navigatore è bravo E' serio Cos'è il Cobra Team? E' un gruppo di tifosi Che... Tu c'è un gruppo da mentire di tifosi 50, 50 tifosi Dove sono? Ah, ho visto tantissime ragazze con questa cosa Cobra Team Poi c'è... Ci abbiamo il meccanico? Buonasera Il meccanico Gianni Dicci tu qualcosa sul mezzo e sul pilota? Niente, i ragazzi sono venuti sopra a provare la macchina Molto bravi, molto preparati La macchina per quello che è al top Tiene molto la strada anche se questa prova dei greci è un po' molto sconnessa Però, diciamo, è al top la macchina Ma diciamo, dimmi la verità Come guida lui? Gliela hai camberata per fare la spazzola dietro oppure gli fai usare tanto l'autobloccante? Diciamo che la macchina tende un po' dietro a saltare Allora abbiamo cercato un po' della tenere un po' morbida Così il ragazzo si può divertire anche un po' ai tornanti E allora vai tutto di spazzolone Tanto l'autobloccante è il tuo miglior amico Sì Un saluto a tutti Un saluto a tutti A tutte le ragazze che stanno in giro e ti fanno il tifo Sono tantissimi È tutto al cabra team Quando mi segnala tiro Poi lo dai a me Che caccia si è staccato? Che è andata? Stacca i fai Staccami il cavo del batterio Quale? Oh oh stasci fumo Stasci fumo Eh 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 Fai dietro Paolo Fai dietro Paolo Fai dietro Paolo Stacca i fai dietro Paolo Stacca i fai dietro Paolo Stacca i fai dietro Paolo